Non credo ai fantasmi, quindi di ombre io non ne vedo, poi non mi piace neanche andare a inseguire né ipotetici fantasmi né ipotetiche ombre, baso solo sul pratico e sul concreto e su ciò che vedo. E per cui una settimana di passione, ma è l'ennesima, perché purtroppo non stiamo facendo bene, purtroppo abbiamo perso dei punti per strada, purtroppo non stiamo rispettando quelli che potevano essere gli obiettivi iniziali, però di questo bisogna prenderne atto e bisogna adoperarsi per svoltare pagina, bisogna ritrovare il gioco e bisogna ritrovare l'anima. Ecco, questa è la cosa fondamentale. Poi adesso ciò che si dice, francamente ci penso poco, mi appartiene poco, ho detto di ombre io non le vado a inseguire, non ci credo ai fantasmi. A me basta quello che ha detto il Presidente, quello che ha detto la società, il resto lo scrivete voi, forse voi sapete più di me, ma io ho detto io non ho problemi, non inseguo fantasmi, non mi fa paura, i fantasmi non mi fanno paura, non mi fanno paura le cose concrete, ciò che mi fa paura è l'ultima partita che abbiamo fatto, un po' nervosi, un po' nevrodici, con reazioni isteriche, dove abbiamo perso un po' il filo del gioco che comunque in qualche modo ci aveva sempre contraddistinto, è quello su cui noi ci dobbiamo basare, il resto chiacchiere se le porta il vento. Loro hanno cambiato anche il modo di stare in campo, squadra abituata a giocare per salvarsi, cerca di evitare i play-out, quindi ritmi agonistici, quindi confronto, confronto da questo punto di vista è importante, noi dovremmo essere bravi ad accettarlo, questo tipo di confronto sul piano temperamentale, sul piano agonistico, è nelle nostre possibilità farlo, e poi provare a imporre il nostro gioco e farlo con continuità. No, ma ho deciso, il lano e si giocherà, questo è il vostro problema più grande, giocherà, va bene, riduciamo un po' le cose. Memuschiai sta bene? Non benissimo, proprio risposta secca. Chiarella e Clemenza sono due giocatori che giocano nello stesso ruolo, ma che possono anche interpretare ruoli diversi, Clemenza è un giocatore che dobbiamo recuperare, l'ho visto molto meglio e molto bene nell'ultima settimana, e per cui faccio a lei le dovute considerazioni.